La prima analisi stavamo lavorando sul piazzale della Madonna delle Grazie, c'è stata già un'interlocuzione con tutti i commercianti e i produttori che la mattina affollano Piazza Verdi con delle soluzioni miste, nel senso alcuni andranno sulla Madonna delle Grazie per chi fa enogastronomia, in particolare i classici della porchetta che sono lì su Piazza Verdi. Stiamo valutando anche delle situazioni diverse in alcuni luoghi della città. Naturalmente seguirà una seconda convocazione per loro per fare la scelta anche proprio dei posteggi. Però insomma cerchiamo di fare il tutto evitando qualsiasi disagio a loro che comunque fanno chiaramente per loro un'attività molto importante lavorativa soprattutto nel mercato più importante della provincia di Terra perché quindi su Piazza Verdi era un'attività molto florida e ormai storica e chiaramente bisogna cercare in qualche modo di garantire loro lo stesso flusso di utenti. Finalmente però dei lavori che partono per una struttura che li attende da molto molto tempo. Sì, adesso il sindaco l'ha già accennato, sarà un 2024 dove saranno tanti cantieri a partire. finalmente ai progetti preliminari e definitivi seguono i lavori effettivi sulle strutture ed è il simbolo, questo 2024, dell'inizio della rinascita sotto l'aspetto delle strutture della città di Teramo perché poi queste strutture non dimentichiamo, sono dei punti di interesse importanti. spesso ci chiedono proprio di questo, di avere dei punti di attrazione purtroppo i punti di attrazione passano attraverso dei progetti e dei lavori fisici che abbiamo programmato nei cinque anni precedenti e che oggi entrano nel vivo. Quanto tempo ci vorrà? Il mercato coperto ha una programmazione di tre anni quindi chiaramente noi cercheremo di far rispettare i tempi perché poi quando si iniziano dei cantieri sappiamo tutti benissimo che non è semplice rispettare i tempi però insomma sia la ditta che tutti gli operatori interessati ci hanno garantito che faranno il possibile per rispettare i tempi è per avere questo mercato restituito alla città che poi avrà veramente una funzione, io la definisco culturale sulle gastronomie e sui prodotti della nostra città.